Il problema dell'arte, la questione arte, oggi è una questione centrale, non perché l'arte sia più importante di altre dimensioni della vita e dell'essere, ma perché nell'arte si vede con più chiarezza, si vede subito, quello che manca all'attuale modello sociale, quello che manca, quello che non va, che non funziona nell'attuale società, quello che contrasta con la stessa evoluzione della storia, con la stessa dinamica, con la stessa dialettica della storia e della civiltà come l'abbiamo conosciuta e che ora si trova in un tempo di sospensione, di interruzione, di inversione, di implosione. Perché dico questo? Perché l'arte si fonda su un unico presupposto, l'antropocentrismo. L'antropocentrismo. Se l'antropos, l'uomo, non è al centro, il cristianesimo è una forma di antropocentrismo dentro un'impostazione naturalmente teocentrica, rivelativa, ma è un dio che va verso l'uomo. Non è un dio che sottomette l'uomo e lo porta a sé e basta. La novità rivoluzionaria del cristianesimo è la prospettiva invertita. Lo stesso dio adotta una prospettiva antropocentrica. Benissimo. Quindi è evidente che l'arte con la maiuscola, come il mito, più del mito da un certo punto di vista, ha bisogno di un antropocentrismo. Il mito, diciamo, che può essere visto, a rischio anche di un minimo di riduzionismo, quale cosmocentrismo, quale racconto dove al centro c'è lo stesso cosmos, che a sua volta è un mito, ci ricorda Sallustio, perché noi del cosmo vediamo l'apparire, ma il mistero, l'intelligenza, la volontà ci resta in specum et enigmate, quindi il mito è più cosmocentrico. Il cristianesimo e l'arte è antropocentrica. Bene, proprio questa società liquida aerea ha perso, ha voluto smarire, ha rinunciato all'antropocentrismo. Quindi per questo manca una poetica dell'arte, un'ermenertica dell'arte, per questo si fa fatica a dire quale sia l'arte oggi, come si fa fatica a dire se esista una letteratura oggi, come si fa fatica a dire quale sia lo stato della poesia oggi, e questa assenza di risposta non è mai caduta nella storia umana, perché c'è sempre stato una visione alla base della società. Anche durante la teocrazia mediovale c'era comunque di fatto un antropocentrismo. Di fatto, magari, ma c'era. Qui siamo, quando è iniziato questo società televisiva che ha preteso di superare il tempo generando un subtempo. Gli anni 80 naturalmente, solo che gli anni 80 di Giovannotti, gli anni 80-90, di Giovannotti dell'ombelico del mondo, dell'utopia del villaggio globale che avrebbe risolto ogni problema. Adesso abbiamo solo l'ombelico, non solo non c'è più il mondo, non c'è più il corpo, perché un onfalos cosmo, un umbilicus mundi, ha senso se c'è un mondo, se c'è un corpo, ma se non c'è un corpo, nemmeno l'ombelico ha più senso. C'è un corpo senza organi, quindi in realtà un nulla, un subcorpo. Ma almeno negli anni 80, di fronte, c'è un immaginario televisivo, cioè la TV era veicolo di una forma di creatività che ambiva a liberarsi dalle pastoie rigidi dell'ideologia. Ora abbiamo invece il media che si è fatto a sua volta ideologico, si è costruito una sua retorica, che ha fatto meno della centralità dell'uomo, ponendo una tecnocrazia, un tecnocentrismo, un mediacentrismo. All'assenza di tempo, fresca però giocosa degli anni 80, corrispondeva comunque un tempo continuo della storia, un tempo continuo dell'arte, anche se già allora il mainstream esisteva, iniziava a muoversi e a porre ai margini la vera arte, la grande arte. Grande merito di Vittorio Sgarbi è stata una bellissima mostra sull'arte che andava dal 1968 al 2007 a Palazzo Real di Milano, dove si poteva finalmente per la prima volta accorgersi che c'era stata una grande arte negli anni 80, accorgersene socialmente, non solo per gli addetti ai lavori. C'era stato un grande Carlo Maria Mariani, un grande Stefano di Stasio, con dietro Maurizio Calvesi come ermeneuto intellettuale, la cosiddetta pittura dell'anacronismo, in realtà una pittura apollinea, che sì era anni 80, ma all'assenza di tempo consumistica e stupidottera, parallelamente costruiva un'assenza di tempo apollinea, della forma, di un mito del reale magico epifanico, una grande figurazione, quella ad esempio di Stasio e Mariani, fra i molti. L'arte di Damien Hirst, l'arte fra virgolette, è opera di tassonomia, un taxidermista, uno studioso di animali, di mette sottoteca. Lo riconosciamo come arte semplicemente perché abbiamo la dittatura televisiva, che ci ha abituato a considerare l'arte tutto quello che è semplicemente un effetto visivo, un impatto estetico, ma in realtà non tutto quello che è impatto estetico è arte, altrimenti tutto dovrebbe essere arte e tutto equivale naturalmente al nulla. Damien Hirst appartiene a quell'inganno del grande mercato dovuto all'incrocio di due fattori banali, quasi primitivi, cioè il gesto del separare, che sacralizza, del mettere sottoteca, gesto scientifico, prima che artistico, pedante gesto enciclopedico, con il vedere, il frame, la fotografia tridimensionale, il fermo immagine, quale arte in quanto impatto estetico. Dovrebbe essere il contrario, l'impatto estetico deve essere un effetto, non una causa dell'arte. E così Christophe, il pur gradevole e interessante Christophe, perché lo consideriamo arte? L'impacchettare edifici o il modificare il paesaggio? Si potrebbe a maggior ragione con più precisione considerarlo un'operazione psicosociale, un'operazione di appunto manipolazione della percezione estetica, ma questo produce dei materiali estetici, immaginari, ma è arte? La domanda non è stupida, non è banale. Perché la consideriamo automaticamente arte? Semplicemente perché crea dei materiali estetici visivi differenti o perché modifica la nostra percezione dello spazio-tempo, ma tutto modifica la nostra percezione dello spazio-tempo. Semplicemente perché Christophe, facendo queste operazioni scala macro, un'economia di scala, quindi del grande mercato, produce dei monumenta, degli idoli. E quindi anche qua c'è l'archetipo primitivo, quindi possiamo dire che i tentativi di arte o qualcosa che si avvicina a una para-arte o un sub-arte esistono oggi nell'era dell'iper-tecnologia solo perché sfruttano archetipi estremamente primitivi. Se ci pensiamo, crolla questa pseudo-arte perché non è un'arte che fonda se stessa, non c'è un'autonomia, un nomos dell'arte, un'arte cazzo-autono, ma c'è un mercato che favorisce esperimenti estetici visivi, immaginativi, a lui funzionali. Non solo non c'è un'ermeneutica e una poetica dell'arte, ma se confrontiamo la tale assenza con le ultime grandi poetiche di ermeneutica dell'arte come quella romantica, vediamo proprio l'abbassamento, il vuoto, l'implosione, la regressione. Ad esempio l'ermeneutica, la poetica dell'arte del romanticismo con la R maiuscola si fonda sul conflitto, quindi riprende pur in senso che poi dopo diventa sentimentalista e lirico e soggettivista, ma all'origine dello Sturm und Drang riprende il senso greco, tragico della bellezza, quale conflitto, quale soffio, respiro cosmico per cui l'arte è un qualcosa che attinge ad una bellezza comunque con la B maiuscola, trasfigurando, trasalendo, elevandosi al di sopra di due polarità, la paura da una parte e il debole, il fragile dall'altra, o viceversa il senza limite, il selvaggio da una parte e comunque il panico dall'altra e cosa attinge? Attinge il sublime, quale arco elettrico appunto fra la paura e il fragile. Qui non abbiamo invece nella cosiddetta arte di oggi né nessuna trasfigurazione, come in Ist non c'è nessuna trasfigurazione, né nel senso dedalico e festico, cioè di trasformazione tecnica, né nel senso appollineo, ermetico, dionisirco, di trasformazione a livello di visione, ma abbiamo un semplice repertorio, quello di Ist, o un semplice confezionamento o riconfezionamento, quello di Cristò. Qua non ci si eleva al di sopra della paura o del fragile o del selvaggio, qua si mette in scena piuttosto la paura, si mette in scena, si celebra un fragile, un effimero a fine se stesso. Siamo quindi in un pre, in un al di qua dell'arte, non in un al di là, per prendere il concetto di Hegel di autocoscienza, che genera una presenza, che ha un al di qua e un al di là, qua non siamo certo nella presenza alla Hegel, né nell'al di là della presenza, ma siamo in un pre-umano, pre-artistico. L'arte subisce una forte divaricazione che non c'è mai stata e non ci dovrebbe essere fra l'idea e il materiale, l'idea e la tecnica. Abbiamo un'arte che si riduce solo a concept, un'arte che è progetto di arte, puro sguardo, e allora qui troviamo, a mio parere, una giustificazione solo nella fotografia, quale filosofia dello sguardo, quale filosofia pratica. Allora lì sì, visione tecnica stanno ancora insieme, allora possiamo ancora oggi dire che l'arte e che la fotografia è miracolosamente sopravvissuta, nonostante tutto, nonostante se stessa, proprio per una questione fisica del fatto che non puoi separare tecnica da visione nella fotografia, è rimasta quale arte e quale filosofia pratica. Sì, nella fotografia sì. L'arte è quale mero concept, e quindi dicevamo l'arte è quale una progettualità che non si è ancora realizzata ma viene già spacciata per arte. O arte è quale pura esibizione di un materiale estetico visivo che invece dovrebbe essere quello un materiale manipolato, trasformato, trasfigurato per produrre la vera arte, e non lo è. Gli stessi pre-Raffaeliti in realtà sono assolutamente dentro una poetica o neotica della forma raffaeliana, apollinea. Quindi loro volevano celebrare una visione antica, arcaica, ancestrale, e come tematiche e soggetti narrativi lo fanno in parte, pur trattandosi sempre di un medioevo, di una pre-cristianità deformata da un post-romanticismo sentimentalista, come forma in realtà i pre-Raffaeliti sono profondamente rinascimentali raffaeliani perché non c'è stato un rinascimento, un barocco nell'inchintera puritana e iconoclasta. Quindi anche se i pre-Raffaeliti, a mio parere, hanno poca anima, hanno una forma però bella naturalmente, una forma che ha una sua autonomia artistica sì, in quanto autonomia, hanno poi un pensiero magico, hanno comunque un'intellettualità, un discorso culturale parallelo dietro, piaccia o meno. Oggi dov'è il discorso culturale? Dove sono i cenacoli di artisti che dialogano con i culturali? Non c'è il nomos e non c'è il mitos, perché si è ridotto appunto Dedalo ed Efesto al concept, Hermes, Apolle e Dioniso, scusate, Dedalo e Efesto al materiale bruto e Hermes, Apolle e Dioniso al puro concept cerebrale. Abbiamo poetiche ed ermeneutiche da riprendere? Sì e no, naturalmente, primum vivere dei inde filosofari, quindi bisognerebbe prima mostrare l'arte che c'è oggi, seppure sia paradossalmente la vera arte, l'arte di qualità tenuta ai margini da un mercato che continua a spacciare simulacri, rappresentazioni di rappresentazioni, giochetti infantili, mero materiale o mero concept, al posto dell'arte che c'è. E quindi bisognerebbe andare a chiedere a questi artisti che ci sono, che sono bravi, che sono interessanti, che hanno un vero percorso, ce ne sono tanti, io riconosco pochi, vi faccio ancora pochi nomi, ma non voglio escludere nessuno, ce ne sono tanti in Italia. Altra operazione rivoluzionaria che non fu capita perché fu demonizzata mediaticamente, fatta da Vittorio Sgarbi, fu quella di mettere 300 artisti alla Biennale, non quei 5-6 sfigati raccomandati che venivano sempre messi alla Biennale e il Padiglione Italia è il peggior padiglione, il più spento, mediocre, smorto, senza anima rispetto a tutto il mondo, mentre la Biennale si fa in Italia, a Venezia. Dario Ghibaudo, la visionarietà plastica di Dario Ghibaudo, la sua versatilità tecnica, l'essere Dario Ghibaudo un Dalì del solido, del materiale, ma se naturalmente con la sua autonomia, non è che imita certo Salvatore Dalì. Gaetano Grillo, il suo lavorare sul linguaggio, così andando oltre la rigidità e il vecchiume del pop, l'operazione intellettuale, noetica, ma anche poetica di Dario Ghibaudo inventando un nuovo alfabeto che assorbe in un nuovo linguaggio il carattere idolico del pop, del materiale visionario di cui siamo saturi e che continuiamo a rimasticare, un'operazione di rivoluzione copernicana, di ribaltamento del problema in opportunità. Nello stesso tempo Gaetano Grillo lavora sulla forma, su questi busti in lamina d'oro, che sembrano appunto dei solidi platonici, sono delle forme di pura contemplazione. Chi lavora sul linguaggio automaticamente recupera la grande arte perché si pone quale ermeneuta quale costruttore del proprio scenario e nel suo tempo si pone in conversazione con l'essere a tutti i livelli. Maurizio Aprea, che sembra un'arte di un futurismo senza tempo e senza ideologie, che recupera una stratificazione, che realizza un'arte sinestetica dove non c'è soluzione di continuità, fa pittura e scultura, fra luce e forma. Maurizio Aprea è un'arte veramente che non sai dire se è un'arte di cinquant'anni fa o l'arte che avremo fra cinquant'anni, perché è grande arte. Alexei Morozov, le cui sculture hanno una presenza performativa, mitogonica, assoluta, hanno una pulizia, una potenza tellurica, ctonia, ma nel suo tempo si elevano verso il cielo. Stefano di Giusto, i suoi gessi sono neoellenistici e quindi si può fare un parallelismo fra Morozov e Stefano, uno col bronzo, l'altro con con il gesso. Alexei Guintov, con le sue, questa sua arte di immagini, anche qua, che hanno un senso di fiabesco, ma anche una potenza demiurgica, proiettata verso il futuro, eccezionale. Giovanni Gasparo, la cui pittura dimostra come si può essere fedeli alla tradizione, sia dal punto di vista tecnico che iconografico, ma nel suo tempo assolutamente attuali, presenti, con un dinamismo interno, inquieto, visionario, nervoso, destabilizzante. La sua Madonna dell'Apocalisse è un qualcosa che vince il cinema, cioè una pittura che sa non essere, limitarsi a fermo immagine, essere un sub-cinema, ma avere addirittura la potenza del cinema nella fisicità parmenidea di un quadro. E ne abbiamo molti altri, insomma, li conoscete poi più voi di me, lo sappiamo. Ugo Levita, Ugo Levita, Roberto Ricci, Ugo Levita ha i suoi quadri di un fantastico, surreale, ma nel suo tempo assolutamente coerente, credibile, sono dei mondi, quadretti di pochi centimetri, sono dei mondi, sono delle grammatiche, sono delle sintassi immaginali, sono quadri rinascimentali. Non c'è nessun fantasy, in Ugo Levita sono quadri umanisti, non c'è nulla di meno dell'umanesimo di fine Quattrocento, ritorna completamente nella pittura di Ugo Levita. Alzec Miscef, il ritmo musicale, il respiro sinfonico, cosmico, l'intimità, la delicatezza intima, crepuscolare, ma non decadentistica, della pittura di Alzec Miscef. Sembra la migliore pittura francese ed europea, pur essendo lui di origine bulgare, perché è il genio universale. Alzec Miscef, grande performer, ha una pittura che è animica, puramente animica, puramente musicale, quindi si spiega da solo. Lì l'opera è un'opera con la O maiuscola. Quale ermeneutiche poetiche del recente passato? Beh, io faccio sempre questo gioco di parole, i due Pavel, Pavel Floreschi, Pavel Endokimor, Endokimor teologo, filosofo russo, il quale diceva che il mistero che illumina la conoscenza non è la conoscenza che illumina il mistero. Endokimor riprende il concetto di tenebra luminosa, che fu di Alberto Magno prima che di Niccolò Cusano. L'Alfa e l'Omega sono la luce, dal fiat lux al veni spirito dell'Apocalisse. E quindi, leggendo Pavel Endokimor, non potremmo che favorire un'arte che unisce il senso del reale, il mito del vero, del reale, con naturalmente la potenza epifanica e simbolica. Dopotutto la stessa tragicità alla greca che c'è in Dostoyevsky, che sul fondo ha sempre l'idea della redenzione dell'Apocalisse. Se non c'è un antropocentrismo, non c'è il corpo. E se non c'è il corpo, quale arte volete che il sistema mass mediale possa favorire o spacciare? Una subarte, una prearte. Se non c'è il corpo, non c'è arte. Se non c'è l'uomo, non c'è il corpo. Oggi la politica, l'armeneutica, implicita sempre nell'arte che mai cessa, non può essere una poetica, una mistica, una poetica e un'armeneutica mistica ed eroica. Io ho inventato la parola mitogonica proprio per dire questo, un agone, un'agonicità dell'arte, un'arte di combattimento, un'arte psicomarchica. ellenistica non nel decadentismo, nello stilema, nella coppia della coppia della coppia, ma ellenica nel lagone, perché Apollo non è forma e sangue, è innanzitutto un archetipo agonico. Per quello, oltre alla fotografia, la musica in realtà anche questa non ha mai problemi. Certo, viene marginata socialmente la vera musica, ma non ha problemi, perché la musica è sempre, per sonatura, in quanto invisibile, è mistica ed eroica, è esoterica, è sapienziale, è sempre la musica. E non a caso la musica, penso, sia, ahimè oggi, l'arte che più possa soffrire dalla crisi economica, dalla recessione e da questo sistema di distribuzione della cultura e della comunicazione, che è un sistema brutalmente commerciale, e Zapound criticava il sistema delle riviste e delle radio, perché ai suoi tempi erano le riviste e la radio, i fenomeni e il sistema tecnocratico di comunicazione e distribuzione della cultura, e li criticava perché, in quanto sistema di massa, che non aveva nessun valore oltre se stesso, non portava, non poteva che portare la massa, e lui fu uno dei primi che se ne accorse, ad un livello di mediocrità sempre più forte, quindi sempre una maggiore mediocrità, sempre un maggiore imbarbarimento. Così fanno adesso il sistema della pseudoinformazione, il sistema dei media, dei videomedia. La cosiddetta società liquida, che liquida e fargli ancora un complimento, io direi società aerea, volatile, società dell'aria fritta, il chiacchiericcio. E quindi certamente i due Pavel, Florensky e Dokimov, ma tutto ciò che può dare un senso di proiezione in avanti, verso un futuro che si vuole fare evaporare, ma tutto ciò che può essere mistico, eroico, agonico, certamente è la poetica, l'ermeneutica di oggi. Altrimenti, o è così, come io credo, o dobbiamo dare ragione a Alessandro Baricco, il quale ritiene che, parafrasando un nice e deformandolo, naturalmente, ritiene che la profondità sia la superficie, che i nuovi barbari siano il nuovo illuminismo, che gli smanettoni del digitale siano i nuovi di Deleuze e d'Alembert, questo ritiene Alessandro Baricco, che sia il net, il centro, non il frammento, che ovviamente è una stronzata totale, perché la relazione presuppone una struttura, è un corpo che ha un limite, ci sono relazioni dentro i corpi, fra i corpi, cioè fra strutture che hanno avuto una formazione, ma che sono formate, in quanto formate formano, se non c'è corpo, e se non c'è limite nella società liquido-aerea, non ci può essere corpo, non c'è tropocentrismo, non c'è arte. Quindi le supercazzole intellettualoidi di Alessandro Baricco non sono certamente né un'ermeneutica e né una poetica, sono delle supercazzole funzionali al potere e al sistema, come l'arte di, pseudo-arte di Cattelan. Certamente a livello sperimentale la cosiddetta contaminazione, cioè l'incrocio dei linguaggi, è uno degli scenari, dei molti scenari, non può essere l'unico scenario ideologico come sarebbe a obbedire ai diktat propagandistici e funzionare il sistema di Baricco. Il grande battiato, da giovane, faceva anche lui le sue stronzatine sperimentali, elettroniche, interessanti, possono piacere o no, ma certamente gli sono serviti per crescere. Mi ricordo una, molto bella nella sua semplicità, prendere la voce degli astronauti e farla sentire insieme a un'aria sulla quarta corda di Bach estremamente rallentata, no? Simpatici giochetti, va tutto bene, ma non può fondare su questo la poetica l'ermenetrica dell'arte, altrimenti resti dentro questo tecnocentrismo, ma la tecnica nasce quale archetipo sacrale, ricordiamoci, la metallurgia, tutte le arti erano riti sacrali segreti, avevano senso così dentro una società organica che è appunto un corpo, ritorniamo al tema del corpo, che come ci ricorda Aristotele non può non avere limiti, e il limite presuppone un nomos, quindi senza nomos non c'è mitos, non c'è logos, non c'è arte. Torniamo all'arte, al mito che oggi deve guardare al presente e soprattutto al futuro. e poi